Terza vittoria consecutiva, seconda di fila interna per la Germani, che supera 99 a 68 la Consulting West, strappa la quarta affermazione nelle ultime 5 partite a domicilio e sale a 16 punti in classifica, sconfitta numero 3 nelle recenti 4 gare per Pesaro, che rimane a quota 10 in graduatoria. Parte forte la Leonessa, che ispirata da Berggrin, Landry e Moss, si porta sul più 11 dopo 8 minuti, 31 a 17 al decimo, Luca Vitali svolge un lavoro di playmaking fantastico, 11 assist già al ventesimo e i padroni di casa allungano, più 18 al quattordicesimo, i marchigiani subiscono al rimbalzo e piombano a meno 19 al diciottesimo sotto i colpi di Moore, 53 a 33 all'intervallo. Nella ripresa i fratelli Vitali permettono alla Germani di allargare ulteriormente la forbice, più 30 al ventottesimo, 74 a 46 al trentesimo. Brescia non si ferma più e tocca il più 37 in apertura di quarta frazione, il resto è garbage time. 23 su 44 da 2, 13 su 22 da 3, più 6 al rimbalzo, 28 assist e 122 di valutazione per la Leonessa contro il 17 su 39, 8 su 25 della VL, 21 con 5 su 8 nelle triple per Michele Vitali, 30 e 16 palloni catturati per il tandem Moore-Landry, 19 gli assist di Luca Vitali. dall'altro lato 18 più 11 palloni arpionati per Jones, 5 le assistenze di Harrow.